Kevin ASMR Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video ASMR Allora, sono abbastanza contento di fare questo video anche perché ho risolto il problema al microfono a quanto pare senza mandarlo indietro perché praticamente mi sono reso conto che forse erano le vecchie cuffiette a fare interferenza con il jack e il microfono e infatti le ho cambiate ho provato con quelle da gaming e funziona quindi non so che tipo di interferenza facevano però meglio così, quindi il microfono non è rotto se questo video va bene e anche gli altri tanto io ho tempo fino al 23 di questo mese per cambiarlo quindi se dovesse essere rotto comunque posso fare il reso sempre che ce l'avrò allora, in questo video andrò a rispondere alle domande che mi avete fatto nello shorts quello dove vi chiedevo di farmi le domande allora, le domande ce le ho qui al tablet perché sto registrando col telefono e le leggerò una a una e penso che metterò il commento da qualche parte qui della persona che l'ha scritto allora, penso siano una ventina le domande e niente, direi di iniziare subito allora, la prima domanda è qual è il cibo preferito? allora, questa già è una domanda abbastanza difficile perché mi piace tutto cioè mangio tutto qualsiasi cosa è, non cambia niente però se proprio dovrei dire qualcosa direi pasta, pasta e pizza e che sono, diciamo, quelli più sostanziosi che, diciamo, mi possono piacere di più poi, allora, quanti anni hai? rispondo subito qua, ne ho 13 lo so, potrei sembrare più grande non lo so, almeno tutti mi dicono così sono più grande e comunque, sì, ne ho 13 sono nato il 25 maggio del 2010 13 anni li ho fatti a maggio questi 13 poi, hai una crush? allora, sì, c'è una persona che mi piace niente, sì poi, questa domanda fa un po' ridere però rispondo giusto per rispondere sei bello? sono stupendo? assolutamente allora, poi dove vivi? allora dove vivi qua? io vi dirò la regione soltanto giustamente per privacy non vi vado a dire la città eccetera allora Basilicata sud Italia poi sei passato a scuola? sì sono passato a scuola e anche con ottimi 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 voti praticamente sono tutti 8 e 9 10 no perché giustamente 10 non ne mettono a nessuno non li mettono a nessuno quindi quindi niente però forse un 10 da un in qualche materia me lo meritavo eh poi allora questa domanda pure fa un po' un po' ridere allora come ti chiami? io Maria Teresa allora piacere mi chiamo Kevin e c'è scritto nel nome del canale quindi un po' non so però può essere di solito si inventano i nomi dei canali comunque sì mi chiamo Kevin poi qual è il tuo colore preferito? allora colore preferito blu poi colori che a quanto pare mi stanno bene sono sul sul verde scuro il blu pure mi sta bene e questa maglia tipo è blu scuro pure mi sta bene comunque blu azzurro e verde però il blu è il mio preferito allora adesso come mai fai video ASMR? allora diciamo che è iniziato tutto tre anni fa adesso faccio una mini storia è iniziato tre anni fa quando ho pubblicato il primissimo video ASMR che facevo sulla scrivania con un microfono non mi ricordo neanche che marca era comunque piccolino rosso che non si sentiva neanche però è normale tutti iniziano con cose così di solito e appunto ho iniziato con quello tutto però è iniziato la sera prima di fare quel video dove ho visto un video di una persona che mi è piaciuto davvero tanto perché è stato il primo video ASMR che ho visto cioè sì io non ne ho mai visti fino a quel giorno e è piaciuto cioè io la vedevo come una cosa semplice che poi si è rivelata alla fine non così semplice e quindi poi ho continuato ad andare avanti anche non andando proprio bene con i video perché arrivavano massimo a 100 150 visualizzazioni sono pochi in realtà quelli là che hanno tante visualizzazioni forse quello di un roleplay quello dove mangiavo i panini e l'unboxing del microfono quello vecchio quello che avevo prima di questo qua e niente ho deciso di fare video ASMR proprio grazie a quel video e anche perché la vedevo appunto una cosa semplice come ho detto prima non pensavo fosse così difficile però alla fine è una cosa che è rilassante sia farla che sentirla cioè perché alla fine io mentre lo faccio sento un video ASMR e mi piacciono cioè non c'è niente da fare poi hai animali allora qua c'è da aprire un discorso lunghissimo quindi lo apro allora ho animali e ne ho avuti tantissimi allora quelli che adesso io in casa non ne ho animali sono in campagna da mia nonno e ho un cane che è un mare in mano di pelo e dico il colore del pelo e di un pastore tedesco infatti il padre è un pastore tedesco e la mamma è un mare in mano se riesco a farvi una foto bella ve la metto anche qui perché c'è raga è stupendo ve lo posso assicurare e però purtroppo io non sono andata a prenderlo insieme a mia nonno quando l'abbiamo preso quindi si è affezionato anche a me ma più a mio nonno perché è stata la prima persona che ha visto allora poi ho una cosa come 15 gatti in campagna e sono tanti ve lo posso assicurare quando ci mettiamo a tavola per mangiare lì arrivano tutti quanti e poi c'è mio nonno quindi deve lanciare qualcosa dare un piatto così se ne vanno dall'altro lato poi ho avuto due pappacallini anzi tre solo che uno è morto e i vicini me ne hanno regalato un altro poi cosa è successo c'è mia madre che mentre puliva la cabbia perché giustamente io non la so pulire non la sapevo pulire ha aperto la cabbia per pulirla e l'ha dimenticata aperta e sono volati via tutti e due e quindi niente hanno fatto una brutta fine però vabbè comunque meglio che non sono morti almeno non ho sofferto diciamo poi ho avuto una tartarughina che purtroppo mi è morta da poco forse da qualche mese quella la tenevo in casa si chiamava richi mamma mia lui ero proprio affezionato non lo so mi piaceva la tenevo in mano la carezzavo gli ho fatto una vaschetta proprio bella con il ponticello tutte le cose che avevo preso per appellirla e poi ho avuto un criceto anche pure quello mi è morto una strage praticamente mi è morto anche quello purtroppo e l'avevo chiamato Max ogni settimana ma ero piccola ogni settimana li cambiavo nome così è morto di caldo perché l'avevo preso un'estate purtroppo in una fiera e niente questi sono gli animali che ho avuto ah e oltre a quel cane mare in mano che ho adesso insieme a lui che penso sia morto forse un anno fa ne avevo un altro che era un labrador bianco che però praticamente mio nonno ce l'ha da quando sono nato io quindi lui aveva la stessa la mia stessa età ovviamente in anni canini e niente è una strage praticamente ora ho solo il cane e il gatto e i gatti poi prossima domanda ti piace qualcuno? se si puoi darci qualche dettaglio se vuoi allora sì come ho detto però mi piace qualcuno e no dettagli ovviamente ovviamente femmina giustamente e che posso dire? allora occhi scuri e basta un anno e meno di me e capelli castani basta questo e niente allora poi prossima domanda sei miope o presbite? allora mi sono informato del significato di presbite se non sbaglio è una persona che non riesce a a vedere praticamente non riesce a mettere a fuoco gli oggetti lontani almeno credo e comunque no io sono miope quindi presbite no poi un amico barra amica ti ha regalato ti ha mai regalato un qualcosa che ha portato da un viaggio se si cosa? allora si un'amica della mia stessa classe che allora è andata in Irlanda se non sbaglio oddio non va si è andata in Irlanda mi ha portato una matita l'ha portata a me a tutta la classe e poi a me in particolare visto che siamo amici praticamente dal secondo elementare e perché è arrivata dopo lei mi ha portato una collana di quelle magnetiche io ne tengo un pezzo e lei ne ha ne ha un altro sarebbero lo Ying e lo Yang forse se non sbaglio non è una collana è un bracciale oddio che era no una collana si una collana che comunque io d'estate non ne metto gliel'ho detto non riesco proprio a tenerla poi come hai capito che ti piaceva fare smr allora in realtà dal primo video anche se mi prendevano un po' in giro dicendo un po' in giro dicendo non dicendo niente prendevano un po' in giro perché i primi se li andate a vedere fanno paura non si sente niente l'ho capito quando ho iniziato a vedere che mi piacevano anche a me i miei stessi video che poi a proposito uno mi ha raggiunto le 2000 visualizzazioni ed è quello dove provo questo microfono qui grazie abbiamo superato anche i 330 iscritti siamo a 342 forse si 340 abbiamo superato i 340 e niente ho capito quando iniziavo a salire quando mi piacevano a me e e niente c'è l'ho capito proprio io poi gli altri iniziavano a scrivermi i commenti che ero bravo ho anche altre persone che faccio per un smr quindi l'ho capito da questo se segui il calcio che squadra divi allora non mi mangiate tifo juve però non lo seguo proprio tanto capita qualche partita i risultati della partita più che altro e niente comunque si tifo juve ho i cappelli della u sharp palloni di tutto poi appunto di dove sei l'ho già detto basilicata allora l'unica cosa che posso dirvi provincia di potenza e basta ok allora spero che questo video non so in realtà quanto è durato perché adesso ho il tablet per leggere le domande di solito avevo il timer e grazie per le domande innanzitutto e secondo vi avviso che uno dei prossimi video sarà un unboxing mukbang perché ordinerò delle cose americane da un sito e alcune cose le ho prese in un negozio con cui allora la ragazza che ci lavora che è su quel negozio mi ha detto che se li facevo il video su queste due cose americane che avevo preso me ne regalava una quindi posso definirla collaborazione e quindi nel prossimo video dirò in che via si trova cosa vende e poi farò l'unboxing del pacco con le cose americane e le cose che ho preso da lei quindi sono contentissimo e niente grazie per i 300 e basta iscritti non so che dire sono proprio contento poi mi stanno arrivando un sacco di complimenti se andate a vedere soprattutto nel video della schiuma da barba che è quello con più like di tutto il canale tipo 140 tantissimi non ne ho mai avuti così tanti e anche quello manca poco per le 2000 visualizzazioni quindi davvero grazie allora il video finisce qui spero che vi sia piaciuto e niente iscrivetevi lasciate like e attivate la campanellina perché i prossimi video penso saranno bellissimi e niente ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao